la meglio gioventù benvenuti su radio room la radio dell'università di macerata e benvenuti ad una nuova puntata di la meglio gioventù come avrete capito insomma questa voce rauca e leggermente mascolina non sono francesca quindi oggi alla conduzione del programma non ci sarà francesca ma comunque delle gambelle tette grande esattamente sì ma ci sono io e soprattutto c'è vanni della tosse grassa e benvenuto vanni che saresti che saresti tu chiediamo subito subito i ruoli allora vanni subito la voce maschile però anch'io più mascolina ovviamente la tua esatto esatto i complimenti per i capezzoli una volta è uno show grandissimo allora era un uomo era una ragazza era una donna è anche piacevole apposta allora subito amica miseria potevi chiuderla a chiave dove vai e rapirla e metterla in spalla e prima domanda che ti ho fatto oggi mentre siamo incontrati a re canati insomma c'è una diffusione di vanni insomma c'è una ragione particolare oppure secondo te ma io il più anziano che conosco è vanni leopardi conte discendente della famiglia leopardi forse lui avrà ispirato tutti i vari vanni del canatesi però so che so che mia mamma si è ispirata in realtà a un vicino urbano mannaggia direi canati sì sì che anche lui noto come vanni a guardia giustamente io invece c'è gente come ti dicevo prima che crede che vanni fabbri mio nome sia nome d'arte hanno cominciato a pensare che vanni fosse riferito al mario vanni della squadra di pacciani il mostro di firenze e mi chiedevano fabbri ma fabbri da dove viene che non è una cosa di merlin manson no no ho dovuto mostrare il documento per dimostrare che ero vanni fabbri davvero all'anagrafo che eri che eri realmente vanni fabbri vanni cominciamo un po con abbiamo parlato di di re canati quindi insomma un po un po le tue origini mi hai detto che fai musica da da sempre ma che diciamo la tosse grassa è adesso va molto di moda dire un progetto quindi è un percorso un percorso relativamente recente sì ok si è dal gennaio 2011 che ho iniziato quando quando è passato in tv lo spot dello sciroppo in cui c'era questa creatura verde la tosse grassa che che lottava contro il povero malato ho deciso sì sì voglio concentrare le mie forze e diventare un'incarnazione di questo di questo muncolo e quindi fare un progetto che partisse da quel punto lì e mettendoci in mezzo un po tutte le mie precedenti esperienze ma concentrandomi solamente su questo perché prima di quel momento facevo musica con diverse sigle e con spesso contenuti in forme di messaggio completamente incoherenti tra loro cioè cose opposte per questo non avevo necessità di fare diverse sigle perché ognuna cioè certi brani non erano compatibili con con un certo marchio cosa che crea confusione sia oltre che negli altri anche in me stesso anche anche perché è più che altro che non riuscivo mai a concentrarmi appieno su un progetto in particolare perché avevo troppe troppi tentacoli come dire adesso ne ho scelto uno un bel tentacolone bello grosso come il mostro dell'acti grip esatto esatto e ho scelto questo quindi con vogliato tutte le mie forze in questo progetto qua grande vanni senti abbiamo parlato un po di di recanati quindi delle delle te origini com'era il vanni da ragazzo magari il vanni che che andava a scuola più che altro ecco vorrei mi piacerebbe sapere un po le tue influenze musicali letterarie cinematografiche che comunque ricorrono nei pezzi c'è un po tutto il mio mondo culturale subculturale diciamo beh con la musica c'è una passione da subito fin da piccino quando mia mamma ascoltava in radio rose rosse di minoreitano cioè mi appassionava tutta la musica che c'era all'epoca parlo di metà anni 80 anni circa oltre a quello vedevo un sacco di televisione quindi videoclip che passavano nei concerti diciamo che siamo anche agli inizi i primi videoclip insomma in televisione insomma sì sì io ricordo un concerto di un festival che c'era in inghilterra credo che è stato trasmesso una domenica mattina che ho visto a casa ma ho visto c'era una band che si chiamavano missing persons il cui chitarrista poi finì nei duranduran in seguito e ho detto cacchio questo mi piace cioè rock'n'roll un po punk ma lì ho deciso che la musica mi interessava davvero allora ho cominciato a seguire con attenzione i vari programmi tv che c'erano all'epoca dj television ok certo sì il giovanotti da piccolo che mandava video cose così poi alla fine davo un po che ascoltavo quello che passava il convento nonostante avessi notato delle cose che mi avevano fatto innamorare subito come 6x sputnik un gruppo electropunk d'epoca bon jovi all'epoca le prime chitarre un po dure che sentivo e poi ho preso a documentarmi che grazie al cielo a re canadi c'era un gran fermento culturale a livello musicale quindi tanti ragazzi che ascoltavano vari generi più meno conosciuti meno esposti dell'epoca da heavy metal rockabilly punk hardcore gothic e quindi contemporaneamente degli amici più grandi mi hanno passato dei dischi quindi ho avuto la fortuna di ascoltare nello stesso periodo storico della mia vita iron maiden bauhaus dead kennedy se street cats quindi sono venuto su come un bastardo subito non non pienamente metallaro non pienamente dark non pienamente punk quindi ma tutte queste influenze insieme cosa che considero una benedizione assolutamente si hai diciamo fagocitato il il tutto e l'hai rivomitato nell'accezione più positiva poi senza migliani rinegare mai nulla c'ho ancora ascolto con piacere iron maiden conosco tanti miei coetane che adesso si rifiutano fanno gli snobb addirittura di aver avuto certi ascolti in passato nascondono le magliette no no c'ho tutto ben conservato grande e quindi insomma è riprodotto tutto in quello che poi è insomma il il percorso del della tosse grassa dicevi prima insomma percorso relativamente recente perché comunque insomma gli anni sono 2000 2011 quindi quasi un anno fa diciamo e la scelta è stata proprio istintiva oppure prima c'è stato un periodo di incubazione beh diciamo che cose simili già le venivo facendo con un altro progetto precedente che si chiama capeal un duo con un che abbiamo da lontano 97 addirittura che abbiamo portato avanti ci abbiamo avuto un periodo d'oro nella nostra zona nel 98 99 poi il mio complice è diventato uno scienziato si è trasferito prima il cnr di bologna adesso addirittura professore di fisica all'università di tolosa addirittura in francia per cui viene qua due volte all'anno quando le vacanze natale vacanze estive quindi cogliamo l'occasione per rimpatriare riconciliarci con il nostro pubblico in quei periodi lì io avevo la necessità però di di continuare a esprimere con la virulenza dei nostri testi dei nostri brani in un'altra forma per questo ho dato vita alla dosse grassa perché ho bisogno di incanalare insomma tutte le mie energie le mie idee che rimanevano soppite in questo senso perché non potevo esprimere dato che in coppia non potevamo più produrre un che ha visto visto la distanza ho capito bene io direi di fare una piccola pausa mettiamo uno dei tuoi pezzi insomma dal dall'ultimo album e insomma quale pezzo hai scelto per noi io lancierei subito burzoom 2 che è la considerata sarà considerata insomma la hit del vecchio tour era un brano che è finito nel secondo album tg2 ma che già nel tour del primo album iniziamo a fare la gente la conoscevi testi prima ancora che uscisse il brano anche anche meglio di me che tendo a dimenticarli spesso quindi è stato un successone e da poco è stato realizzato un videoclip di questo brano insieme da un nostro ministro del culto la dosse grassa il vescovo teodoro che anche un ottimo videomaker abbiamo visto i suoi lavori lui risponde al nome terrestre di stefano teodori ok che lo salutiamo magari ciao steve ciao ha fatto un gran lavoro naturalmente anche perché ci sono il protagonista ovviamente esatto il video lo potete cercare tranquillamente su youtube cercate antonella clerici nuda burzoom 2 la tosse grassa e troverete senz'altro il videoclip per ora qui siamo in radio ascoltiamo solo la musica perfetto a tra poco a 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 gioventù e insomma ben ritrovati qui con vanni della tosse grassa allora abbiamo un po' ripercorso le origini fino a insomma alla tosse grassa e prima parlavamo del dell'origine anche del nome insomma vi accennato del mostro dell'acti grip sì sì questo sciroppo c'era l'incarnazione della tosse grassa in questo mostriciattolo verde io ho deciso poi di trasferirlo su di me l'entità proprio del mostriciattolo verde tant'è che mi presento come un simidio un'incarnazione un avatar di questa divinità che è la tosse grassa e che nel mio corpo ha fatto un'ottima scelta direi esatto sicuramente per i capezzoli ovviamente beh anche anche non si poteva niente comunque no un nome che è fortunato perché grazie all'inverno che ogni anno arriva c'è un sacco di pubblicità gratuita sia la gente che scatarra per strada sia i spot televisivi insomma continuamente vengo nominato a sproposito veramente vi metto il copyright su fortuna che non ho messo dei comandamenti no ma poi ne parlavamo poc'anzi e dicevamo insomma io spiegavo come per me la tosse grassa fosse una sensazione di sollievo dopo il periodo derivante dalla tosse d'età stizzosa dalla tosse secca che è inutile fondamentalmente inutile tortura invece la tosse grassa è la cosiddetta tosse produttiva per cui alla fine c'è un risultato la senti è tangibile del tuo dolore c'è c'è conduce a qualcosa lo puoi calpestare puoi sputare puoi farci quello che vuoi un yogurt e a differenza delle altre religioni perché ricordiamo la tosse grassa parliamo esatto del culto è il centro del culto della tosse grassa l'incarnazione della divinità non che pontefice massimo per forza di cose è un dio che c'è in questa terra a differenza degli altri della concorrenza che ci sono perché c'è scritto sul libro però vabbè pure saura bisogna crederci insomma si insomma ci vuole un po' di fiducia invece qua ci sono anche un numero di telefono quindi sono tangibile io mi tocco spesso quindi ci sono è perfetto e lo possiamo vedere insomma e voi lo potete voi non mi potete vedere perché siete in radio esatto io lo posso vedere e lo possiamo ascoltare possiamo ascoltare la voce e bisogna dire insomma che ha dei bei capezzoli insomma così dicono sì sì in questo momento li tengo celati però altrimenti la gente si incanta sai esatto esatto non riesce a levare lo sguardo dai capezzoli e allora allora abbiamo parlato un po' del del culto vogliamo parlare un po' dei dei suoi adepti magari mi dicevi che tu nelle tue esibizioni comunque non sei da solo ma insomma hai un si ho un si si chiama radical macabre trans commando ed è un una via di metodo tra un ordine monastico una guardia d'onore e un corpo di ballo per cui sono degli uomini sempre rigorosamente uomini non perché sia sessista ma proprio perché sono maschio istintivo se avessi delle donne sul palco finirebbe che gli tocco il culo a tutti quindi non è non mi pare il caso diciamo giustamente mi distrago durante gli spettacoli è sempre lavoro quindi metto degli sgradevoli uomini al mio fianco che che mi difendono e mallando sì perché è anche rischioso il mio lavoro sul palco cioè è possibile che qualcuno prima o poi mi abbatta fisicamente ovviamente avendo due bei maschioni a mio fianco di solito tendo ad essere più difeso dopo loro sono sempre di solito intossicati da sostanze alcoliche e simile quindi qualche ma quello è per evitare il dolore quindi per evitare che chi li picchi insomma li stenda comunque sì per ora ho un piccolo esercito di circa 20 volontari chiamo trans commander che poi di volta in volta vengono reclutati per i concerti a coppie in base alla loro disponibilità chiaramente io devo essere sempre presente ovviamente su alcuna scelta gli altri chiaramente ognuno ha i suoi impegni per cui in base alla loro disponibilità li invoco e vengono puntuali a indossare la loro parannanza d'ordinanza perfetto bellissimo parannanza d'ordinanza senti Vanni allora qualche altra domandina magari su più che altro sulla scelta sia comunque dei campionamenti oppure anche dei dei testi magari non so quando scrivi quando ti vengono le idee migliori la mattina magari appena sveglio dopo una serata alcolica oppure nei momenti più impensabili di solito le idee mi vengono nei momenti in cui non ho altro da fare in cui non sono concentrato in qualcos'altro e allora il cervello mi inizia a girare di suo di solito capita spesso in treno quando faccio i viaggi e sto lì mi vengono delle idee delle frasi abominevoli che subito appunto e poi vi ringraziamo tre in Italia insomma per la tosse grazie 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 dopo di che cerco di dare il foro a volte nasce prima un testo un concetto mi capita spesso di avere un titolo o una frase intorno alla quale sviluppare un concetto che penso essere una cosa ma poi il lavoro finito diventa tutt'altro certi testi iniziano con l'idea di parlare di un certo argomento alla fine parla di tutt'altro cioè un processo in divenire almeno quello testuale e a volte invece capita che faccio prima degli incroci musicali prima inizio a lavorare su un paio di brani che ritengo che possano essere facilmente sposabili e poi è il brano a svilupparmi un'idea ma proprio la musica a portarmi in una certa direzione altre volte invece il contrario è un mistero ogni volta c'è ogni brano c'è una sua storia insomma che tendo a dimenticare obiettivamente si parla si parla di culto quindi anche dietro il tuo culto insomma c'è una parte di di mistero se vogliamo relativa alla produzione musicale assolutamente mistero della fede perché alla fine tutti i miei segnali sono un'emanazione di quello che io chiamo porco dio del degrado non è una bestemmia è un nome proprio certo che è la divinità superiore che non sappiamo se è una divinità è un qualcosa che ci manda giù tutti i segnali che portano alla negatività in un certo senso che poi troverete frequentissimi al termine dei nostri concerti quando dobbiamo far rotolare via i cadaveri dalla strada cosa che capita spesso perché e poi nascondete nei campi oppure insomma ma poi si riprendono in genere sì sì abbiamo spesso il miracolo alla resurrezione perfetto ultimamente un noto tans commander intossicato da assenzio è rimasto lì cadavere in auto per poi risuscitare alle nove di mattina col sole grandissimo è proprio insomma un culto il miracolo il miracolo senti per quanto riguarda la parte musicale un giudizio insomma mio spassionato personale insomma ascoltando le tue le tue canzoni è che si tratti di una sorta un frullatore musicale poi ogni video ogni canzone non sai insomma quello che quello che aspettarti tu prima mi parlavi del campionamento e ritorniamo anche un po' insomma alle tue origini tu mi dicevi hai fatto sempre musica elettronica come nasce diciamo il campionamento beh ho deciso di utilizzare esclusivamente i campionamenti per la tosse grassa perché nei miei vecchi progetti sia quelli elettronici che quelli rock tendevo sempre a suonare a un livello diciamo discreto ma mai soddisfacente dal mio punto di vista appunto tale da raggiungere quelli che consideravo i maestri dei vari generi che affrontavo anche per quanto mi sforzassi dell'originalità magari notavo che nei test riuscivo ad aggiungere dei risultati più soddisfacenti ma a livello musicale sì mi piaceva però alla fine era sempre un secondo piano rispetto ad altri nomi più grandi per cui ho deciso perché continuare ad imitare a produrre suoni elettronici sintetici che possano raggiungere il colpo di cassa utilizzato da un determinato artista o quella linea di basso elettronica o quella solo di chitarra perché farli imitando dei maestri poi fallendo nel tentativo di imitarli ho cercato di prendo proprio l'originale prendo quello ho bisogno voglio un suono simile a quello perché farne un altro prendo quello il risultato è per quanto mi riguarda davvero attraente insomma è particolare beh sì infatti questo mi ha permesso grazie alla fusione del di questo tipo di mashup con dei testi aggressivi abominevoli e delle melodiette abbastanza pop e orecchiabili di essere fortunatamente almeno l'unico del mio genere non ho altri che non conosco altri che fanno lo stesso tipo di cose magari verranno magari ne parleremo se creerà una scena sarà un nuovo genere forse però altrimenti conosco gente che fa testi simili ai miei ma su su brani propri gente che fa mashup ma non ci mette dei testi sopra quindi evviva beh in bocca al lupo innanzitutto questa è la prima cosa che crepi poi ce lo facciamo con le patate esatto e bene mettiamo un'altra tua canzone sì rimandere ritardo mentale che è il brano finora più censurato della storia della tosse grassa nonostante non contenga bestemmie che sono tanto vietate nel mondo dello spettacolo anche se fanno parte del linguaggio quotidiano e per questo continuo a difenderle diciamo perché la gente le usa ma per via dei dei contenuti probabilmente che semplicemente è un brano che parla delle contraddizioni dell'umanità in tutti gli aspetti più quotidiani però mi è stata censurata due ben due volte da youtube semplicemente non lo so non sappiamo ancora quale sia il motivo perché normalmente non ti dicono mai che a mandare la segnalazione ci sono dei sospetti però uno è per il fatto che abbiamo utilizzato come icona del brano il viso di lodo dello stato sociale si quindi potrebbe essere incazzato lui qualcuno della band qualcuno dei fan si si potrebbe essere chiunque al fine sono molti fan dello stato sociale oppure potrebbe essere stato qualcuno dei vip che vengono citati di di sbiego dal brano come il capitano schettino o la Sara Tommasi quella che ciuccia bene i vasi esatto oppure la cosa più credibile che è stata la tesi più accreditata qualcuno che cercava informazioni serie sul ritardo mentale ha trovato questo brano magari ritenendolo offensivo e soprattutto trovava offensiva l'immagine del fatto che avessi sfruttato l'immagine di un down di un ragazzo down per l'icona però quel ragazzo down era lodo dello stato sociale insomma quindi una unione tra la prima e l'ultima ci sono dei misteri anche in questo caso e quindi adesso siete riusciti a far filtrare la canzone per altre vie quindi diciamo ho tolto l'icona e al posto di quell'icona lì ho messo un l'icona che mi era stata data in risposta per cui quando un video non era più disponibile quindi ora l'icona è la censura stessa ho capito e tuttavia c'è ancora il divieto al minore di 18 anni per questo brano quindi se avete meno di 18 anni tappatevi le orecchie allora ritardo mentale la tosse grassa ordine e disciplina razza pura e vita sana ma le un bucci che aspetta la battona nigeriana puttani arenaco ossessione di scopare ma vorresti solamente portarmi una sull'altà non so com'è lo chiavi te così lo chiamo io da me ritardo mentale non so com'è lo chiavi te così lo chiamo io da me ritardo mentale una casa e chiesa senza i brilli per la testa ma si fa la scuola di judo c'è più bianca pura testi dove tu fai il dj metti tecno minimale preferivi il metallo ma poi non trovi da chiamare perfetti gli animali tipici vegetariano però mangi i gamberetti e non vedi che c'è di strano rastone cannabista fumi da mattina a sera non sai che questo ha senso solo se hai la pelle nera dai il nemico tu è lo stato sogni la rivoluzione e ti aspetti che la diano presto in televisione gente che lavora gente che produce non si accorge di essere schiava del sistema ducce ducce non so come lo chiami te così lo chiamo io da me ritardo mentale non so come lo chiami te così lo chiamo io da me ritardo mentale non so come lo chiami te non so come lo chiami te non so come lo chiami te mi diverto come un pazzo quando un guasta festa arriva e grida salga porto cazzo non proprio una diva però ci siamo quasi la gente mi ricorda perché ciuccio bene i vasi ehi tu maschio nero giuri botte ai richioni ma il sabato ti tuffe assucchia il cazzo dei tranzoni le massaglie fan la coda per sentire la mia broda e quest'anno di gran moda io ci metto la lazza ben ritrovati su radio room la radio dell'università di macerata e bentornati alla meglio gioventù sempre con vanni della tosse grassa grazie bella gioventù grande abbiamo parlato di un po' di censura e prima insomma prima di cominciare la registrazione parlavamo un po' magari di qualche problema o comunque di qualche critica che ti è stata posta insomma appunto per i testi o comunque per linguaggio utilizzato beh certo tu come te la vivi? beh è inevitabile dal momento che scelgo di fare un certo tipo di cose e lanciare un certo tipo di messaggi è inevitabile che ricevo accuse non tanto per per l'utilizzo delle bestemmine dei miei testi per l'utilizzo delle varie parolacce ma proprio spesso anche per gli argomenti affrontati cioè mia norma il mio modo superandi utilizzare sempre come temi degli argomenti che siano tabù totali cioè perché sento che ci sia necessità di parlare di questi argomenti perché altrimenti non lo fa nessuno insomma poi siamo un po' insomma particolarmente perbenistici in televisione o comunque nelle canzoni gli argomenti sono sempre gli stessi magari di un tema come per esempio prima parlavamo insomma dei ragazzi down comunque del ritardo mentale cioè difficilmente se ne parla in una canzone ma certo io utilizzo quell'espressione che so che è un'espressione forte il ritardo mentale tende a dare fastidio proprio il fatto stesso di pronunciarlo però chiaramente non mi metto a prendere in giro ovviamente certo però mi prendo in giro il resto del genere umano paragonandolo insomma questo genere di cose però per dire c'è un brano come padre mostro che affronta il tema della pedofilia nella casa cattolica però che già è stata tabu cioè guai a parlarne figurato in una canzone ma faccio ancora di peggio perché affronto il tema dal punto di vista dal bambino che invece ne vorrebbe ancora quindi e questa cosa mi ha portato anche a delle censure per esempio avevo partecipato a un evento a Modena chiamato un libro veritas che era in sostegno delle biblioteche della provincia di Modena che erano state danneggiate dal recente sisma sì tra l'altro ero anche tra gli organizzatori quindi mi hanno dato affare per reperire le band arrivati sul luogo però mi hanno praticamente impedito di suonare perché quelli del locale che era di proprietà della Curia avevano se non resi conto di cosa sta per accadere c'era qualcosa e quindi mi hanno bloccato prima facendomi capire che proprio certi argomenti non dovevano essere trattati non trattati in quel modo non dovevano essere trattati punto per figura io mi ero presentato con una t-shirt con il segnale di pericolo con quello che sei l'attraversamento sì 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 però con il prete che insegue i bambini simpatississimo ma proprio per perché avevo subodorato la situazione volevo essere chiaro dall'inizio per evitare che poi succedano cose più spiacevoli tipo denunce successive o interruzioni durante lo spettacolo quindi mi sono tirato fuori da quella situazione immediatamente sì sì visto approfondiamo un attimo la questione dell'argomento dei live un aspetto che ti caratterizza è proprio quello insomma del live quindi dell'esibizione dal vivo quindi non solamente sei particolare nell'accezione più positiva del termine nella tua musica nei testi ma anche insomma i live sono uno spettacolo in uno spettacolo per quanto mi riguarda sì il nostro è un live decisamente particolare perché non c'è un live non c'è nessun strumento musicale certo né rock né elettronico non c'è proprio nulla capita che la gente viene ai concerti e prima dell'inizio dello spettacolo trova lo pacco completamente spoglio e si chiede ma dove sono finiti che succede e poi a un certo punto noi perché il mio unico strumento è la voce è un lettore è un fido lettore il cdj 100 pioneer che manda le vasi che mi sono preparato a casa con comodo però il resto è solamente uno spettacolo in stile quello che è lo stile euro disco la disco music hip hop degli anni ottanta prendi falco prendi madonna madonna non ha musicisti sul palco ha solo un corpo di ballo e la sua voce per il resto quindi ritorna anche un po' l'esperienza dalla pratica fatta da come dj sì sì senz'altro quello è fondamentale per è stato fondamentale per per la creazione dei verani cioè l'avere per mettere insieme così tanti campioni da diversi generi è necessaria per forza di cosa una passione primordiale cosa che ho come dicevo prima dai dai miei ascolti d'origine che poi ci sono espansi a dismisura negli anni e poi dal fatto che è anche un'attività come dj per cui sono costantemente portato ad ascoltare novità e nonché a riscoprire vecchie gemme del passato e ogni volta che trovo qualcosa di che stimola il mio appetito decido di renderli ingredienti per i miei nuovi brani e comunque lo spettacolo insomma vale sicuramente il prezzo del biglietto insomma è chiaro nell'album nella registrazione dell'album sono molto più composto considera che il mio studio di registrazione è la mia casa è casa tua quindi con tutte le mie inettitudini tecniche infatti i brani sono registrati veramente malissimo lo sono io prima a dirlo perché intendo farlo fare tutto da solo in maniera autarchica con tutti i pro e i contro della cosa c'è tutto il tempo che voglio ma non so fare niente quindi il risultato è pessimo ma ne sono fiero e magari è proprio questo quello che ti caratterizza ma se un giorno imparassi a registrare meglio ma ne lo farei meglio ma non ho voglia hai ragione così allora vogliamo dare un po' di contatti o comunque magari di prossimi appuntamenti dove insomma chi ti ascolta diciamo può venire a trovarti italiano e l'abbiamo dimenticato stamattina a casa però ci siamo capiti i spettacoli sono numerosi tendono ad essere numerosi quindi i prossimi sono fammi ricordare sabato 24 novembre al Drunk in Public di Trudica di Morrovalle che è un pub gestito da John Tanfo il punk cantante della farmacia comunale ah come no ne abbiamo ascoltati parecchie volte poi venerdì 30 sarò al Silicon Bar di Osimo che è in provincia di Ancona che è una sfida perché è un posto veramente piccolo è in piano centro storico in un centro bigottissimo quindi vedremo cosa succederà se riusciamo a scappare il giorno dopo sabato il primo dicembre siamo all'Ateneo occupato di Acilia ah nella periferia romana una serata dedicata ai tatuatori indipendenti diciamo però insieme a noi suoneranno i No Ciappi Bourgeois che sono anche loro un duo di pop bizzarro da Genova però e mi dicevi che comunque hai date fino a insomma il periodo fino a Natale sì diciamo per tutto novembre e dicembre sono piazzato nei weekend insomma perfetto sei impegnatissimo compresa la sera di Natale grandissimo e qualche contatto magari su internet come ti troviamo allora potete trovare per non imbatterci nei vari sciroppi il web dove c'è archivato tutto come si deve che è www.latossegrassa.net perfetto il blog dove ci aggiorniamo costantemente con le ultime novità che è il culto della tosse grassa appunto blogspot.com e la pagina facebook dove è possibile interagire con la mia persona quanto volete la tua divinità possiamo fare più chiacchierette che è facebook.com bar il culto della tosse grassa perfetto Vanni io ti ringrazio vuoi salutare qualche adepto qualche insomma tuo solo le femmine bagnate ciao a tutte ciao mi associo insomma anch'io a questo saluto bene la puntata di quest'oggi con Vanni della tosse grassa della meglio gioventù è terminata e da me David e da Caterina insomma la nostra tecnica un saluto e ci rivedremo la prossima volta ci risentiremo la prossima volta chissà dove chissà quando chissà boh ciao a tutti amene la meglio gioventù Grazie a tutti.